Fabrizio Scocchi Parto dal rapporto tra ricerca e precariato La ricerca in Italia è precaria, negli anni della crisi tutti i paesi tranne Italia, Grecia e Portogallo hanno investito in ricerca, l'Italia ha tagliato, ha gestito il pezzo della ricerca come il resto della pubblica amministrazione quindi abbiamo subito l'austerity, ci sono stati tagli, lo citavo un intervento di prima, è acclarato che i paesi che vogliono tornare a crescere sono quelli che tentano di investire in ricerca e sviluppo questa cosa l'Italia non la fa e siamo nella condizione incusiamo che è molto evidente è inquietante che si è parlato di ripresa con gli ultimi indicatori che sono stati dati dall'Istat c'è un minimo di ripresa con cifre ridicole di occupazione ma in settori che sono a bassissimo salario, precarietà intensa, adegualificati se questa è la linea su cui si deve costruire lo sviluppo dell'Italia siamo messi piuttosto male la ricerca è in realtà precaria da prima della crisi perché è uno di quei settori in cui una parte consistente delle entrate complessive vengono da progetti esterni questo è un elemento fisiologico che negli anni ha determinato che ci sia sempre stato una quota di personale non a tempo indeterminato all'aumentare dei tagli, dei finanziamenti ai fondi ordinari c'è stato un completo ribaltamento per cui oramai con i fondi da progetti esterni ci si paga la luce nei laboratori e ci si paga il personale e questo ha portato al ribaltamento completo nel senso lo Stato si è ritirato e quindi questo ha due aspetti, quello che ci interessa a noi è che noi sono due anni che abbiamo i precari che vanno in pensione non semplicemente che sono più che quarant'anni come diceva Giovanna ma vanno in pensione prima no ma sono negli ultimi due anni che abbiamo avuto i primi pensionati ma l'altro è che la ricerca in Italia sicuramente non è libera perché è tutta ricerca commissaria, è tutta ricerca che per mantenersi deve inseguire i progetti là dove le politiche internazionali decidono di puntare sui settori che decidono di puntare è precaria da tempo quindi il pezzo di sindacato, la storia sindacale che racconto io è una storia sindacale forse un po' differente da quella di altri pezzi perché noi abbiamo dovuto imparare a confrontarci con questa realtà probabilmente prima degli altri questo ci ha consentito diciamo di capire subito che non c'è una politica sindacale non c'è una politica di sinistra che non metta al centro il precariato quando all'inizio degli anni 2000 da precari dicevamo che la precarietà era il modello verso cui tendeva tutta la forza lavoro diciamo nelle assemblee, gli altri colleghi ci guardavano un po' così dicendo no vabbè ma di che stiamo parlando la verità è che la precarietà è diventata una condizione esistenziale riguarda il lavoro, riguarda la precarietà rispetto al salario riguarda la precarietà verso la possibilità di immaginare un futuro è diventato un paradigma egemone io ritengo che sia un buon paradigma parlare di precarietà per capire che cosa è la sinistra, dove va e dove è stata sicuramente la sinistra è morta esattamente alla fine degli anni 90 perché non ha capito nulla di quello che era la trasformazione produttiva non ha capito niente di questo cambio di paradigma di cosa era diventato il lavoro e in cosa si era trasformato la sinistra politica è sindacale e quindi dalla fine degli anni 90 quello che è accaduto ha fatto morire definitivamente la sinistra politica in qualche modo giustamente perché non si perde un appuntamento come quello rimanendo in vita il sindacato ha tenuto perché c'è un livello di radicamento tale per cui con tutte le sue a volte anche terrificanti inadeguatezze tiene perché c'è un livello di radicamento che è reale risponde a bisogni che sono immediati delle persone e io ho fino al tempo allora politica delle battaglie io non lo so io non sono in grado di dare un contributo rispetto a come si fa a costruire un soggetto se devo partire dalla mia esperienza sicuramente sono la capacità di farle intanto le battaglie perché il problema è che un po' sono deboli ma un po' manco si fanno perché la verità è che dove poi le fai qualcosa ottieni perché in questi anni in questa condizione degli enti di ricerca noi qualcosa abbiamo ottenuto noi abbiamo ottenuto rispetto a altri pezzi vicini noi abbiamo ottenuto perché facciamo le battaglie da dieci anni in cui c'è il protagonismo dei lavoratori in cui il sindacato fa una parte che è una parte in cui dichiara anche il proprio limite quindi da spazio alla loro organizzazione e quindi quando poi le battaglie le fai non va proprio male 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 secondo me il problema è che a volte si chiacchiera ma poi non si fanno le battaglie sicuramente in un momento in cui la precarizzazione diventa un paradigma esistenziale è molto complicato parlare di costruzioni di soggettività perché sono tutte soggettività reattive partire da ciò che si è organizzato nei territori partire dalle battaglie significa intanto ripartire da una soggettività con cui confrontarsi per portare a costruire la politica a presto a presto Grazie.